Assessore De Angelis, mattinata dedicata all'illustrazione del bilancio di previsione 2011, quali sono i punti che qualificano questo documento? Come abbiamo visto i punti che correttirizzano questo documento è purtroppo la contrazione della parte corrente che ha visto ridurre da 54 milioni dell'anno scorso di spese correnti ai 47 milioni di quest'anno. Purtroppo per la mancanza del contributo Enel che da quest'anno sarà pari a zero e pertanto 13 milioni in meno si fanno sentire. Come avete cercato di far fronte a questa situazione? Dov'è che siete intervenuti con i tagli? Come ho ripetuto in consiglio, noi non abbiamo usato il termine spese produttive, improduttive, superficiali, non superficiali. Si è semplicemente intervenuto rispettando quello che è anche la norma e appunto intervenendo sulle spese fondamentali e le spese facoltative. Purtroppo le spese facoltative hanno trovato ben poca terra sotto i piedi per essere fecondati dalle entrate. Senta, per i cittadini che cosa cambia in termini di servizi e anche di imposte? Ma di imposte non cambia assolutamente niente. La pressione fiscale, come ho detto, non è assolutamente aumentata. Ho dimostrato con quelle che sono le entrate che questa pressione fiscale è aumentata essenzialmente, se pressione fiscale si può chiamare, essenzialmente per il recupero di evasione tributaria. Ma lì c'è rimasta inalterata e così tutte le altre imposte, la dizionale regionale compresa. Senta, durante l'illustrazione non sono mancati momenti in cui è un po' polemizzato in qualche modo con l'opposizione precisando su una serie di questioni che erano emerse nel corso di queste settimane. Si è levato qualche sassolino dalla scarpa, come ha detto? Sì, mi sono levato qualche sassolino perché purtroppo tutti sono abituati a rispondere immediatamente alle critiche, il giorno dopo, mille trasmissioni autogestite. Io ho preferito stare silenzioso, nel silenzio, aspettare questo momento per dare i chiarimenti, ma anche per non alimentare una polemica che a me personalmente non mi apparteneva. E lascio ad altri quello di fare politica che è una cosa legittima, come ho detto anche il sale per il confronto.